Chi credeva che sarebbe stata di nuovo una brutta domenica per il Sapri impegnato nella seconda giornata del campionato di Serie D in casa dell'Avellino ha dovuto ricredersi. E' un Sapri deciso e concreto, infatti, quello che si è presentato ieri allo stadio Partegno e che per 90 minuti ha seputo tenere testa i più esperti e agguerriti avellinesi. E il pareggio finale dell'1-1 rende di certo merito più agli spigolatori che ai padroni di casa, considerati tre favoriti alla vittoria finale nel Giro Nei. Così come emerge dalle parole del mister bianco-azzurro Carmine Pugliese, il quale sintetizza la prestazione dei suoi uomini con un lapidario ma efficace, abbiamo saputo soffrire e aspettare il momento opportuno. E il momento opportuno è stata la rete di Ferraro che all'undicesimo del secondo tempo ha regalato il pareggio al Sapri. Ottima anche la domenica del Valdiano, che allo stadio di Monte San Giacomo ha sconfitto per 3-1 il Banzi, archiviando prepotentemente la prima vittoria del riavviato campionato di eccellenza Lucana. Gli artefici delle reti del Valdiano sono Giuseppe Salamone, in doppietta, e Gian Battista Di Brizzi. Non si aspettavano un esordio di campionato così amaro, invece i ragazzi del comprensorio valdianese battuti sul filo del rasoio per 1-0 dalla giffonese di Mariano Turco, sul campo del Troisi a Giffoni Valle Piana. Un esordio che sta stretto e ha lasciato l'amaro in bocca i giovanissimi del neopresidente Mario Vricella, scesi in campo avversario in formazione rimaneggiata per le assenze di Cava e Barba, ma che tuttavia hanno tenuto brillantemente testa agli avversari fino al 36esimo del secondo tempo, quando il giffonese Pipano, approfittando di un errore di Marco Curcio, batte Maddalo tra i pali. Un risultato però che all'indomani della gara non fa di certo scoraggiare il mister Terenzio De Lauso, il quale si dice fiducioso per le prossime gare a partire da quella di sabato prossimo con lo Sporting Casalvelino.